Dall'1 al 3 settembre, Passione in Festa, il primo Cremisi Festival a Tolentino. Ne parliamo con il Presidente dell'Unione Sportiva Tolentino 1919, Marco Romagnoli. Come mai avete pensato di realizzare questa manifestazione? Abbiamo potuto verificare che quello che realmente ci univa era la passione, non tanto per il calcio, questo diciamo è chiaro, ma per l'Unione Sportiva Tolentino, per la sua storia, per quello che rappresenta anche a livello sociale e giovanile qui nella nostra città e anche per quello che rappresenta per gli altri sport, perché l'Unione Sportiva Tolentino, siamo oramai alla soglia del centenario, ha un buon precorso i tempi e è nata come polisportiva, dalla quale poi sono nate tutte le grandi associazioni sportive dolentinate che fanno un lavoro straordinario. Quindi abbiamo ritenuto di dover condividere questa nostra passione con i nostri cittadini e di riportare l'Unione Sportiva Tolentino in piazza, dalla quale forse mancavamo da troppo tempo perché ci eravamo rinchiusi in uno stadio. E abbiamo voluto realizzare questo momento di divertimento, di aggregazione e di condivisione anche di valori, che sono quei valori che ci spingono a portare avanti la nostra attività. Gente straordinaria che si è messa al lavoro, ha dedicato il proprio tempo libero a questo evento in maniera davvero commovente, del tutto generosa e volontaria. Ringrazio su tutti Antonio D'Adei, il nostro direttore organizzativo, che ci ha graduto sin dall'inizio e francamente ha fatto un lavoro incredibile. Con il vicepresidente Fabio Mazzocchetti parliamo delle iniziative inserite all'interno del Cremisi Festival che riguardano la presentazione delle varie squadre, ma partiamo subito con venerdì 1 settembre alle ore 18.30 l'inaugurazione di questa tre giorni di festa. Sì, l'inaugurazione l'abbiamo affidata a chi ci ha poi appoggiato in passato con una sportiva che è Fabrizio Castori, quindi alle 18.30 lanceremo i palloncini Cremisi e successivamente presenteremo poi il settore giovanile con tutti i 300 ragazzi o quasi. Poi durante la cena abbiamo chiesto alle altre squadre di Tolentino, quindi Juventus Club, in primis Elfa e Real, di presentare proprio il loro organico per dare proprio un segno di vicinanza a tutte le altre attività sportive. Sabato presenteremo la prima squadra dopo aver proiettato la partita dell'Italia, è capitata in mezzo, quindi avremo il maxi schermo e ci goderemo la partita. Questo Cremisi Festival è da in là al centenario, quindi faremo iniziare il countdown per il centenario del 2019 che dovrebbe essere proprio il 30 di agosto, il primo di settembre. Con Antonio Taddei, direttore organizzativo dell'Unione Sportiva Tolentino 1919 e grande ideatore di questo festival insieme agli altri, come ha ricordato anche il presidente, parliamo degli eventi collaterali inseriti all'interno di queste tre giorni. Venerdì ore 18.30 come ha detto il vicepresidente Fabio Mazzucchetti e andremo poi a mangiare con degli stand gastronomici, ovviamente da noi forniti e andremo poi a festeggiare alla fine con tanta musica. Ci sarà un gruppo serpico, ovviamente il ringraziamento va anche all'Associazione dei Commercianti del Centro Storico, in particolare Monica Familume che si è adattata con tutta la sua macchina organizzativa e al corteo storico Città di Tolentino Dono dei Ceri. Saranno protagonisti entrambe nella serata di venerdì e in quella di sabato con diverse iniziative e poi si proseguirà appunto sabato sempre con la cena con la prima squadra ed il dopo cena con un altro gruppo. Con un altro gruppo, sono dei tributi agli 883. Gran finale, domenica 3 settembre in serata a partire dalle ore 21.30 con l'attesissimo spettacolo di Angelo Pintus in Piazza della Libertà. Biglietti sold out nel giro di sole due ore nella prima giornata di distribuzione a Palazzo San Gallo. Davvero un grande successo. Super successo, la fila dalle 8 del mattino, abbiamo aperto il botteghino alle 10 e alle 11.75 sold out. Tutto esaurito. Per chi non è riuscito ad accaparrarsi i biglietti però c'è un'altra occasione per assistere allo spettacolo. Ha allestito un maxi schermo dove andremo a produrre live, ovviamente, e a riprodurre lo spettacolo di Angelo Pintus.